Esclusione a vita dalle partite della Lazio per i tre soggetti identificati nell'inchiesta per gli episodi di discriminazione e antisemitismo nel corso del derby di domenica scorsa. La bisuna è stata presa dalla società bianco celeste e arriva dopo il daspo di cinque anni deciso dalla questura di Roma per il tifoso tedesco che in tribuna indossava una maglia con scritte ammiccanti al nazismo. È stato identificato poi dalla Digos che ha indagato insieme alla polizia scientifica e agli agenti del commissariato Prati. Ma sentiamo il dirigente della Digos, Gian Pietro Lionetti. Per passare i prefiltraggi fatti dagli steward e dalle forze di polizia aveva indossato un giubbotto verde per coprire questa maglietta e quindi per in qualche modo mimetizzarsi in mezzo agli altri. E poi siamo risaliti anche all'albergo dove lui è stato alloggiato prima della partita e è partito poi il giorno dopo. Abbiamo ricostruito che lui nel 2009 era stato già a Roma in occasione di un'altra partita, di un altro derby tra Lazio e Roma e in quella occasione tra l'altro era stato denunciato da parte della polizia di Stato, della nostra polizia, era stato denunciato perché aveva fatto invasione di campo. Grazie.